buongiorno il vangelo di oggi al capitolo 6 di marco versetti 34 44 ci propone lo splendido racconto della moltiplicazione dei panni dei pesci da parte di gesù che si manifesta così come il profeta atteso capace di preparare un banchetto di nozze per una moltitudine di gente capace di anticipare il banchetto del regno dei cieli al quale tutti siamo invitati e al quale tutti mangeremo in abbondanza e ci nutriremo per avere la vita eterna questo racconto che ritorna più volte nei vangeli è davvero importante a sottolineare la forza della condivisione della fraternità ma soprattutto la forza di un dio che oltrepassa le aspettative degli uomini e davvero sa garantire una vita che non ha fine il confronto tra i numeri che sono utilizzati nel racconto di marco ci sorprende proprio per quanto sia smisurata la proporzione ci sono 5.000 uomini senza contare donne e bambini dicono gli altri testi del vangelo e ci sono appena 5 panni e 2 pesci non c'è confronto è veramente un'infinità di gente seduta sull'erba verde suddivisa in gruppi che aspetta di mangiare e davvero è nulla quello che è messo nelle mani di gesù eppure il prodigio si compie a indicare davvero come è traboccante la forza della compassione che nasce dalle viscere di dio e dalle viscere del figlio gesù in questo modo con questo segno gesù si pone in contraposizione ai due estremi della vita spirituale che potrebbero tentare anche il nostro cuore da una parte l'atteggiamento degli scettici che alla maniera degli apostoli fanno puramente dei conti economici non bastano 200 denari di pane per nutrire tutti e dunque è meglio lasciar perdere gli scettici sono materialisti sono quelli che non credono al domani perché non credono alla possibilità di una relazione con il cielo sono quelli che misurano solo a partire dalle proprie forze e che quindi vedono sempre e soltanto il pessimismo e la sconfitta dall'altra parte però ci sono anche gli spiritualisti un po fanatici quelli che hanno un rapporto magico con la fede quelli che credono che fa tutto dio e non c'è da mettere nulla di proprio gesù invece ha bisogno di quei cinque pani due pesci che sono il poco di ciascuno che deve essere messo a disposizione con piena responsabilità la nostra collaborazione con dio anche se parte da piccole cose rende possibile il prodigio è stato così ieri lo sarà anche oggi continuerà ad esserlo domani con tanta e fiduciosa speranza buona giornata